benvenuti su espero channel in questo filmato avrete un assaggio di ciò che potete imparare durante un corso espero oggi parliamo di scultura digitale vedremo in questo breve tutorial le basi di utilizzo di Sculptris un software gratuito della pixelogic che ci permette di scolpire direttamente in maniera molto intuitiva e semplice come se fosse creta su un oggetto tridimensionale il vantaggio di questo pacchetto rispetto a tutte le altre tecnologie a pagamento attualmente disponibili sui vari pacchetti è che la creazione dei modelli le forme tutto il resto è completamente separata rispetto alla gestione poligonale cosa vuol dire che quando io vado a manipolare la geometria del mio oggetto non mi devo preoccupare delle forme dei poligoni cioè ciò che sta sotto all'oggetto le forme dei poligoni ovvero i punti che costruiscono il nostro oggetto vengono ricreati automaticamente ogni volta che io vado a disegnare sulla mia forma quindi se io vado a disegnare una piega vedete come vengono creati dei poligoni delle forme subito sotto di esso in questo modo è possibile creare una forma che è sempre ottimizzata quindi che non ha problemi di dettaglio di geometria perché viene ricreata sotto ciò che noi stiamo pennellando quindi non avremo mai un problema di suddivisione troppo bassa eventualmente noi possiamo ottimizzare la geometria piuttosto che possiamo suddividere la geometria quindi avere un maggior livello di dettaglio in modo da ottimizzare ciò che noi facciamo il bacchetto nonostante abbia pochissimi controlli è molto semplice e molto veloce quindi abbiamo la capacità di utilizzare pochi controlli per creare sculture più o meno sofisticate partiamo da una forma base e vediamo i controlli di Sculptris partiamo da una forma base che è quella che abbiamo qua quindi una nuova sfera un nuovo piano possiamo importare oggetti in formato obj da altri pacchetti oppure possiamo importare e esportare vari oggetti creati con Sculptris e assemblare i vari pezzi tra di loro vediamo i controlli di scultura il primo controllo Chris ci permette di intagliare sulla superficie del nostro oggetto delle incisioni dei tagli lasciamo un attimo da parte controlli di rotazione scalatura vediamo gli strumenti di disegno draw oppure possiamo appiattire una parte con flatten possiamo grab catturare una parte come vedete man mano che io estraggo la parte dalla forma viene arrotondata e quindi lui genera una nuova geometria al di sotto di ciò che io sto facendo quindi non rimango limitato dai poligoni che ci sono posso gonfiare una parte del mio oggetto con inflate posso stringere quindi evidenziare una rugosità col pinch oppure posso smussare una parte con smooth e quindi posso creare e scolpire perfettamente con tutti questi controlli allo stesso tempo io posso manipolare quella che è la geometria quella che noi vediamo con wireframe posso lasciare attivo wireframe per vedere qual è l'effetto dei pennelli usare reduce brush per ridurre localmente la suddivisione e quindi ottimizzare il dettaglio dove mi serve posso ridurre le parti selezionate oppure suddividere tutto l'oggetto per aumentare la suddivisione quindi posso suddividere o ridurre localmente oppure in generale tutto il nostro oggetto possiamo eventualmente disegnare una maschera quindi andiamo a disegnare una maschera sulla superficie del mio oggetto tenendo apprenduto il tasto control cosa vuol dire disegnare una maschera? vuol dire proteggere una certa zona in modo che se io vado a disegnare con un qualunque pennello il pennello agisce su tutto tranne che la zona mascherata come vedete qua posso con control A togliere la maschera control D mi seleziona tutto e quindi utilizzando questi strumenti posso creare delle forme più particolari questo strumento prevede che ci sia una simmetria la posso abilitare o disabilitare in un colpo solo se la riabilito lui mi ricrea la simmetria rispetto alla linea centrale tutti i comandi che ho usato fino ad ora con l'eccezione di alcuni hanno la capacità di essere controllati con i pennelli quindi ho la possibilità di cambiare la dimensione del pennello posso decidere la forza del pennello quindi sarà più o meno forte l'effetto del pennello che vado a utilizzare per disegnare posso decidere se c'è la modalità creta che quindi ammorbidisce il tratto come se stessimo lavorando sulla creta inoltre possiamo abilitare o no l'effetto di un eventuale brush cioè di un pennello che mi permette di una volta che l'ho abilitato andare a lasciare una traccia come se avessi un bulino un qualcosa che mi permette di graffiare la superficie se utilizzo la modalità creta come vedete mi aiuta a ammorbidire il passaggio del pennello sulla superficie con le ulteriori opzioni posso attivare l'utilizzo della tavoletta utilizzare più elementi per poter migliorare il controllo e la gestione della scultura sulla superficie in questo modo io posso utilizzare delle immagini in bianco e nero potrei caricare vari pennelli da vari elementi quindi da immagini o altri quindi prendiamo un qualunque brush lo aggiungiamo e io lo posso utilizzare per cambiando la dimensione andare a dettagliare la forma che io ho qua quindi posso utilizzarlo per scolpire quella che è la mia geometria posso creare più pennelli pennelli di vario tipo tra questi pennelli posso utilizzare pennelli più particolari che magari hanno sfumature più particolari in modo da creare una forma che sia più interessante per il dettaglio che voglio creare naturalmente questi controlli che mi danno dimensione e sfumatura mi danno la capacità poi di manipolare questi elementi sulla superficie disabilito rapidamente da qua il controllo del pennello come brush e posso passare ad altri controlli ci sono alcune scorciatuie molto comode per esempio se io tengo premuto il tasto spazio quindi lo spaziatore mi abilita vicino al mio cursore questo controllo che mi permette di controllare la forza del pennello la dimensione del pennello la quantità di dettaglio quindi quanto viene suddivisa la mesh al di sotto del mio pennello e questo mi permette di ottimizzare ottimizzare le mie fasi di scultura se io tengo premuto il tasto maiuscolo mi attiva automaticamente la smussatura della geometria quindi io mentre scolpisco posso rapidamente smussare ciò che io ho fatto quindi questo mi permette di ottimizzare le fasi di lavoro riduciamo tutto il nostro oggetto in modo da ottimizzare un attimo la mesh perché più è complessa la mesh e naturalmente più sarà lenta l'operatività di scultura e tutto il resto mentre più è leggera e più facile e veloce sarà l'operazione di scultura sulla superficie il vantaggio di avere questi pennelli semplici ma allo stesso tempo complessi come gestione ci permette di non perderci mille strumenti ma concentrarci sulla forma che vogliamo ottenere e quindi ottimizziamo le fasi di lavoro normalmente quando si lavora con un pacchetto come questo il concetto principale è quello di partire con la creazione di una forma base poi dalla forma base si andrà a dettagliare nella fase finale l'ottimizzazione viene fatta macro scultura con i poligoni i dettagli fini verranno fatti nella fase di paint la fase di paint quindi quando noi andiamo a lavorare con il sistema di pittura del nostro personaggio dovrà essere finita la fase di scultura per come funziona Sculptris noi dobbiamo fare una fase alla volta questo perché per ottimizzare quelle che sono le fasi di pittura lui fissa la geometria quindi non può essere più modificata per creare la mappatura UV per esportare poi l'oggetto in altri programmi quindi è fondamentale quando noi facciamo la scultura salvare l'oggetto Sculptris in modo da poterlo poi riutilizzare in altri pacchetti o per creare altre forme un altro tasto scorciatore importante è il tasto Alt se noi quando scolpiamo o usiamo un qualunque comando abbiamo un effetto positivo il tasto Alt fa un effetto negativo cioè dove noi estrudiamo col tasto Alt scaviamo dove noi abbiamo uno strumento come Crise per incidere col tasto Alt estrude quindi crea un bordo in estrusione esterna con il tasto maiuscolo come vedete blocca la rotazione della camera a uno degli assi in modo che quando ci muoviamo sia più semplice posizionare il nostro oggetto il vantaggio di questo sistema è che essendo completamente separato dalla gestione poligonale ci permette di manipolare e creare le forme da zero senza doverci distrarre nelle questioni tecniche ma lavoriamo direttamente come scultori all'interno della forma ogni software può essere usato in modo semplice ed efficace si tratta solo di sapere come e noi siamo qua per aiutarvi a imparare per aiutarvi